AxoLight è un'azienda artigiana che si occupa di illuminotecnica e di design. AxoLight progetta, sviluppa e realizza i propri prodotti a mano in Italia. Manto, attraverso un gioco meccanico ed attraverso l'unione di più materiali dissolventi, quali il vetro ed il tessuto, consentirà a chi vuole fare a uso di personalizzare la forma finale dell'oggetto di design, ma soprattutto di decidere il tipo di luce più adatta alla propria personalità. L'altezza della sfera è regolabile in almeno tre diverse posizioni. A seconda del posizionamento scelto, si avrà un differente effetto luminoso. Manto è un oggetto in grado di cambiare il proprio modo di illuminare al mutare delle esigenze.